Il Paradiso delle Signore 8, prossime Vittorio potrebbe lasciare il suo negozio. Le prossime puntate del Paradiso delle Signore 8 trasmesse da settembre in poi in prima visione assoluta su Rai 1. Promettono colpi di scena e clamorose novità. Spazio in primis alle vicende di Vittorio Conti che, di punto in bianco, farà perdere le sue tracce nel finale della settima stagione e non si esclude che possa addirittura uscire di scena dal cast della SOP. Occhi puntati anche su Gemma e Marco, l'attesa, infatti, è tutta incentrata sulla nascita del loro bambino. Nel dettaglio, l'appuntamento con il Paradiso delle Signore 8 promette colpi di scena in primis per quanto riguarda le vicende di Vittorio Conti. L'uomo, infatti, al termine della settima stagione trasmessa su Rai 1, farà perdere misteriosamente le sue tracce, sparendo nel nulla. Una scelta che Conti maturerà dopo aver fatto una clamorosa scoperta sul conto di Tancredi. Marito della sua amica e socia Matilde. Una situazione decisamente complicata per Vittorio, già provato dall'arrivo della concorrenza del nuovo magazzino guidato da Tancredi e Umberto. che rischia di compromettere le vendite del suo Paradiso. Ebbene, non si esclude che nel corso delle prossime puntate del Paradiso delle Signore 8, Vittorio possa addirittura decidere di lasciare la direzione del negozio e uscire di scena definitivamente, pronto a cambiare vita. Del resto, già nel corso della stagione che sta per concludersi, Conti aveva accarezzato l'idea di abbandonare il negozio e accettare una nuova proposta lavorativa che gli era stata fatta. Conti potrebbe decidere davvero di inseguire il suo sogno e mettere la parola fine alla sua esperienza al timone del grande magazzino milanese. Al centro delle prossime puntate del Paradiso delle Signore 8 ci sarà spazio anche per le novità legate alla coppia composta da Marco e Gemma. La Venere, infatti, deciderà di uscire allo scoperto e confessare apertamente a Marco che è quel bambino che porta in grembo e frutto della notte di passione che hanno recentemente vissuto assieme. A quel punto, quindi, i due si diranno pronti a prendere in mano le redini della loro vita e nel corso dell'ottava stagione della SOP. Dovrebbe arrivare il fatidico e atteso momento del parto. Resta da capire anche quale sarà la reazione di Stefania, dopo aver scoperto di questa importante novità che riguarda il suo ex fidanzato, quale sarà la reazione della figlia di Ezio e Gloria? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.